ho letto adesso allora mi dedichi io come ti amo di domenico ma non è la radio ma va bene e poi ho scritto e poi me ne vado che c'ho ci abbiamo da fare, giusto ah dedichiamo l'ultima e cos'è? io come ti amo di domenico modugno Alexa riproduci io come ti amo di modugno chi ha parlato? chi cazzo ha parlato? chi è quel lurido stronzo comunista Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? questo qua è mentale che lo conosce, bravo la sid è qua che fa la bocca perché è un bravo ragazzo è un bravo ragazzo lo so vieni vieni grazie a tutti